Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è a cura del pastore Davide Rostan. Benvenuti e benvenute per questo culto insieme per la giornata del 13 febbraio. Ci raccogliamo insieme alla presenza del Signore e lo facciamo ascoltando questo versetto tratto dal libro di Daniele. Guarda la città sulla quale è invocato il tuo nome poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia ma sulla tua grande misericordia. Riconosciamo Signore che la nostra giustizia è parziale, che spesso ciò che noi chiamiamo giustizia è la difesa del nostro interesse, di quello che pensiamo o riteniamo sia più giusto. Spesso è la difesa del più forte, di chi è gli strumenti per farsi difendere meglio o di chi ha scritto la legge per tutelare i propri privilegi. La parola giustizia nella nostra bocca risuona falsa e a volte ambigua. Mettici di fronte alla tua parola e alla tua misericordia Signore e fa che noi possiamo davvero conoscerti. Santo, 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 mi corazzo mi adora, mi corazzo mi salve sui, santo è il Signore. Dio, santo, mi corazzo mi adora, mi corazzo mi adora, mi corazzo mi da casa. Santo, 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 il cuore mio mi adora, il cuore mio sa dirti così. Santo, Santo, il cuore mio mi adora, il cuore mio mi adora. Così parla il Signore, il saggio non si gloria della sua saggezza, il forte non si gloria della sua forza, il ricco non si gloria della sua ricchezza. Ma chi si gloria, si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà e il diritto e la giustizia sulla terra perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Il profeta Geremia è chiamato a confrontarsi con la monarchia di Israele, la monarchia che sta crollando. Sta crollando sotto l'attacco dei babilonesi che distruggeranno la città, il Tempio e, mano a mano, nell'arco di alcuni anni, porteranno buona parte della popolazione in esilio. Ma la monarchia viene da lontano e la monarchia non è sempre stata vista come qualcosa di negativo. Nella Bibbia noi troviamo, per esempio, il re Salomone, che è un re saggio, è un re potente, è un re ricco, è un re al quale viene attribuita la sapienza, ma noi sappiamo anche che è un re che in qualche modo ricostruisce un po' il modello del Faraone e dell'Egitto. È un re che costruisce un grandioso Tempio, ma è anche un Tempio dove ci sono camere divise, alcune dove può accedere solo il sommo sacerdote, altre dove possono accedere soltanto i sacerdoti, altre dove possono accedere tutti. Non solo, ma sappiamo anche che il re Salomone è il re che accumula grandi ricchezze, che tutti gli portavano aromi, vesti, vasi d'oro, vasi d'argento, muli, ogni anno. Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, sino al paese dei Filistei e ai confini dell'Egitto. Salomone si sposa con la figlia del Faraone. Salomone costruisce la sua monarchia, il suo regno, sullo schema in fondo di questo gigantesco palazzo ricoperto d'oro da tutte le parti. Il Tempio ha un cortile esterno, ha un cortile sacro e ha il Santo dei Santi, il luogo santissimo. Salomone è l'emblema di questa monarchia che a un certo punto, pur essendo la monarchia israelita, cercata, voluta, richiesta dal popolo, rischia di diventare molto simile a quella del paese dal quale il Signore li ha liberati. Nel libro del Deuteronomio il Signore a un certo punto mette sull'avviso, attraverso le parole di Mosè, il suo popolo gli dice Ci sono quindi due grandi traiettori che si incrociano, quelli che vedono la monarchia come qualcosa di positivo, come un governo giusto, e coloro che invece nella monarchia riconoscono qualcosa di problematico, qualcosa che in fondo va a contestare e a contrastare la logica della socialità delle parole pronunciate al Sinai. E Geremia è uno di questi, è uno di quelli che in qualche modo contesta questa prospettiva della monarchia. Non è il solo, ce ne sono stati altri, alcuni prima di lui, come il profeta Nathan, che attraverso una parabola fronteggia il desiderio di appropriazione del re Davide, che si appropria di una donna che è sulla terrazza di fronte. Il profeta Elia, considerato un provocatore nemico di Israele, che ha a che fare con il re Acab. Amos, che piange su una società fallita e si oppone al re Amasia. Tutti questi profeti hanno il dono di un'immaginazione fuori dal comune e operano a partire dalla nozione che le pretese e le esigenze del Dio dell'Esodo, quello della liberazione, quello che ha fatto il cielo e la terra, non possono essere ignorate o calpestate. In qualche modo la prospettiva e la proiezione nella storia di questa monarchia crolla nel momento in cui tutto va in crisi di fronte alla prospettiva della distruzione e dell'esilio. Geremia non ha grandi credenziali, non è un profeta di corte, è semplicemente il figlio di uno dei sacerdoti che ai tempi di Salomone era stato spedito ad Anatot, questo paesino in cui gli avi di Geremia, 400 anni prima, sono stati spediti nella persona dell'anziano sacerdote Abiatar. In qualche modo Anatot rappresenta una contrapposizione alla monarchia, il luogo dove questa prospettiva, questa genealogia familiare nasce e si sviluppa fino a quando, nel momento della distruzione massima, prende la parola. Prende la parola di fronte a una monarchia ormai in crisi e noi ci possiamo immaginare il profeta Geremia che prende un respiro profondo e dice le parole che ha ricevuto dall'oracolo in visione dal Signore. Il saggio non si gloria della sua saggezza, il forte non si gloria della sua forza, il ricco non si gloria della sua ricchezza. Sono queste in qualche modo le parole che rappresentano un po' l'agenda, il programma della monarchia, la forza, la ricchezza e la saggezza, più che la saggezza dovremmo dire forse la sapienza tecnologica. Il termine gloriarsi in ebraico allel in qualche modo significa non glorificate questi aspetti della vita, non glorificate la ricchezza, non glorificate la forza, non glorificate la saggezza. La monarchia aveva ottenuto abbastanza sapere per controllare il mistero e ridurla a un'operazione tecnica, abbastanza forza per costruire uno stato basato sulla sicurezza nazionale, nel cuore di una mezzaluna fertile dove dominavano altri imperi molto più grandi e anche abbastanza ricchezza per soddisfare ogni suo desiderio di possesso. Ma Geremia dice non fatevene un vanto. Chi si gloria, ovvero chi si vuole glorificare di qualche cosa, si glorifichi di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Il termine allel, che arriva come alleluia dal dare gloria a Dio, può significare lodare oltre che gloriarsi. E la questione di fondo di questo gloriarsi è che ora il profeta raccomanda che ci si deve gloriare del Dio dell'Esodo. La scelta a favore di Dio e non della triade della monarchia consiste nel meditare sulla Torah che rappresenta il fondamento della conoscenza e del discernimento riguardo al Signore. È un qualcosa a cui il farone non avrebbe mai pensato e su cui i re non si erano soffermati. È possibile accedere alla vita stessa del Signore in questo modo. Io sono il Signore, recita alla fine l'oracolo. Nel mondo della ricchezza, della forza e della saggezza, ognuno è un oggetto, una merce che occupa uno spazio minimo, che è come una mera appendice al sistema. E quindi anche Yahweh rischia di essere trattato così e diventare un idolo senza vita. Questo è esattamente ciò che Salomone e più in generale la monarchia cercò di ottenere con la sua terza camera, il luogo separato da tutti. Un Dio controllato, non tanto un Dio inaccessibile, ma un Dio che viene addomesticato a favore di un'ideologia, un Dio che diventa l'eco della propria passione sociale preferita, un Dio che in qualche modo possiamo far rientrare nei nostri schemi e che in qualche modo diventa un nostro oggetto e non più il soggetto. E non a caso il testo biblico insiste e fa dire a Yahweh io sono il Signore colui che ha creato il cielo e la terra, che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, che guarisce le tue malattie e perdona i tuoi peccati, che crea e ricrea continuamente. Il Signore è fornito di verbi attivi. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra perché di queste cose mi compiaccio. La bontà o misericordia, hesed, significa essere solidali, onorare la parola data, essere affidabili in ogni circostanza nei confronti di chiunque. Mishpat, giustizia, la giustizia distributiva, cioè fare in modo che tutti i membri della società abbiano accesso alle risorse e ai beni che assicurano loro una vita dignitosa. Nella tradizione del patto, oggetto specifico della giustizia di Dio, è la triade composta dai diseredati, da coloro che non hanno nessuno che può far valere il loro diritto, le vedove, gli orfani e gli stranieri, gli immigrati, quelli che non possedono leve sociali o energie particolari per affermare il loro legittimo ruolo sociale. La SEDACA, il diritto, denota l'intervento attivo nella società, la presa di iniziativa, gli interventi per mettere in piedi alla società il rispondere ai torti e la riconversione di ogni tipo di attività disumanizzante. Infine, Geremia fa dire a Dio perché di queste cose mi compiaccio. Compiacersi o rallegrarsi è un modo di denotare il tipo di offerte e di sacrifici che sono offerti nel culto bene accetto a Dio. E lo stesso termine è usato da un altro profeta quando dice poiché io desidero bontà e non sacrifici, la conoscenza di Dio, più degli olocausti. Questi due gruppi di parole, sapienza, forza, ricchezza da una parte, bontà, giustizia e diritto dall'altra, costituiscono una scelta decisiva per Geremia, nella fede dell'antico Israele e poi nella fede che ne è derivata, nella storia dell'umanità. Non c'è un compromesso possibile per il profeta. Questa scelta tra il Sinai e la monarchia, così come è diventata, la ritroviamo in Geremia ma la ritroviamo anche nelle lettere di Paolo ai Corinzi. La ritroviamo nella scelta che viene imposta a noi, la fedeltà verso la parola del Sinai o la fedeltà verso ciò che Salomone e la monarchia ci propone. Il nostro paese, il nostro continente, il nostro mondo occidentale articola soprattutto la triade della monarchia non solo come difesa, come sicurezza nazionale ma soprattutto come quello che oggi potremmo definire diritto al consumo. Ovviamente noi siamo di solito contro la guerra ma facciamo ben poco riguardo alla percezione del diritto al consumo che noi e i nostri figli respiriamo ogni giorno e che senza riflettere consideriamo come un diritto di nascita. Se questa lettura è corretta allora noi siamo chiamati ancora di più a inventare un'alternativa intenzionale a un mondo basato sulla sicurezza nazionale e sul diritto al consumo perché sappiamo dalle parole di Geremia che questo è un sentiero che conduce alla distruzione, alla morte. Il senso critico della nostra fede ci chiama a domandarci se è possibile contrastare uno Stato basato sulla sicurezza nazionale, uno Stato che esclude le vedove, gli immigrati e gli orfani, che esclude tutti coloro che in qualche modo considera sfruttabili, utilizzabili. Il nostro senso critico proprio della nostra fede ci chiama a trasformarlo attraverso quei filoni di fedeltà alla socialità che corrono in profondità nella storia del popolo di Israele. Esiste questa alternativa, ci viene raccontata, Ezed, Mishpat, Zedaka, la misericordia, il diritto e la giustizia. Noi sappiamo che la nostra capacità di comprendere e quindi di controllare la capacità dei nostri ragionamenti può trovare una soluzione ragionevole per le questioni sollevate dalla questione del male o del dolore soltanto abbracciandolo, così come un corpo che torca un altro corpo con compassione. È una tradizione questa che affonda le sue radici proprio nel Dio che vede l'afflizione del suo popolo che è in Egitto, che ascolta il grido che gli strappano i suoi oppressori e che scende per liberarlo dalla mano degli egiziani. E questo legame tra la divinità, tra la santità di Dio e il dolore ci chiede di immaginare colui che è santo in modo nuovo, come uno che è affetto dal dolore del mondo, che ne fa parte. E questo legame della santità con il dolore genera una verità di cui ci possiamo fidare. Ed è una verità in qualche modo scomoda, che ci dà fastidio, una verità che continuerà a darci fastidio fino a quando ci sarà una competizione per le risorse, fino a quando continueremo a ingerire cibo, fino a quando continueremo a fare l'amore, a morire, a uccidere, a soffrire, ad aspettare, a costruire un futuro di speranza. La verità che la santità di Dio e il dolore sono intracciati insieme, riescono a creare, è una verità che ci chiama a nuovi doni di trasformazione che devono ancora giungere e che giungeranno e che ci chiama a insistere sempre di nuovo sulla necessità di pronunciare e di annunciare queste parole nello spazio pubblico. Il Signore ci consegna una parola complessa, difficile, che ci chiama a delle scelte faticose che non sempre vorremmo compiere. Ma in qualche modo, così come per bocca del profeta mette in crisi la traiettoria della monarchia del Faraone, così allo stesso tempo costruisce un futuro possibile, perché il Signore allo stesso tempo ci dice che non abbandona il suo profeta, non abbandona il suo popolo, non abbandona noi e anche nella disfatta totale dell'esilio saprà manifestarsi, saprà riportare il suo popolo a casa e saprà restargli a fianco nel conflitto, così come nei momenti di euforia, nelle litigate, così come nei momenti di costruzione. Resterà accanto al suo popolo nella storia e ci consegnerà questa verità ineludibile che non possiamo mettere da parte, perché in qualche modo su questa si fonda la possibilità di ricevere un futuro diverso. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vuoi signor, sia tuoi testimoni, anche il nostro cuore, tu vuoi rinnovare. Nella tua volontà, dacci un'alvenire, anche il nostro agire, gloria a te darà. Danci per il te, Dio della speranza, ogni nostro dì, siamo per la danza. In che dubito, tu puoi rinnovare, in un'alvenire, di fraternità. Vogliamo raccoglierci brevemente in preghiera. Ti prego, Signore, di camminare al mio fianco come un compagno di strada. Entra tu attraverso le mie porte sbarrate e spazza via la soltezza che è in me. Apri il nostro cuore, la nostra mente, al grande segreto della tua presenza attiva nella nostra vita. Dacci il coraggio di aiutare gli altri e scoprire la tua presenza anche nella loro vita. Amen. Che il Signore possa guardare alle nostre giornate, possa prendersi cura di noi, di coloro soprattutto che vivono oggi nella solitudine, nella malattia, che vivono nella fatica di una quotidianità priva di futuro e che ci renda capaci di essere noi gli annunciatori della sua parola di speranza. Amen. Amen.